Signora Elda, perché avete scritto questa lettera denuncia? Perché sono anni che noi praticamente ci troviamo ad assistere a questo scempio in via Marino da Caramanico che è stato completamente abbandonato e da un po' di tempo tra l'altro che si iniziano a rivedere topi di una certa dimensione, sia di giorno ma soprattutto di notte. Elda Capriotti insieme alla signora Antonella risiede in una via nei pressi di Piazza Carafa dove si trova da almeno sette anni un cantiere di due costruzioni che avrebbero dovuto ospitare un asilo nido e alcuni alloggi. I lavori sono fermi perché tra l'amministrazione comunale e la ditta esecutrice è nato un contenzioso. Da qui l'invio la settimana scorsa di una PEC a sindaco e comandante della Polizia Municipale. Noi ci troviamo con questa specie di savana ormai da sei e sette anni e sono soldi pubblici spesi senza praticamente sapere le motivazioni e che fine hanno fatto. Quando praticamente era stato presentato un progetto dai cittadini di Chieti che poteva essere già realizzato il Comune al tempo, c'era la giunta di Primio e con Antonio, decisero praticamente di portare avanti il progetto e questo è il risultato che abbiamo. Continuerete nella vostra protesta? Assolutamente sì perché vogliamo risposte e soprattutto vogliamo sapere che fine hanno fatto questi soldi pubblici perché è importante che i soldi pubblici abbiano la destinazione che devono avere e non vengono buttati e spepprati come è stato fatto in questo caso. E intanto, proprio questa mattina, il sindaco Diego Ferrara ha fatto sapere che sono stati stanziati 16.000 euro per una prima bonifica che dovrebbe iniziare dopo la settimana di ferragosto.